uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi anche oggi come tutti i giorni praticamente in tempo reale il nuovo fort bite il fort bite numero 98 che ci dice si trova in una casa lunga vichinga penso che abbiamo tutti capito qual è la casa è proprio la principale dove c'è i vichinghi e andiamo molto tranquillamente qui a raccoglierlo beh ragazzi fort vai preso io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video noi ci vediamo tra poco in live ciao